La vittima, un giovane di 30 anni, aveva raccontato di essere stato ferito a coltellate al Sant'Elia durante un tentativo di rapina da alcuni uomini di colore. In realtà l'aggressione era avvenuta al rione casale e a colpirlo più volte con la lama di un coltello era stato un brindisino, il 26enne Cosimo Morleo. Quest'ultimo è stato identificato e arrestato dalla squadra mobile e rinchiuso nel carcere di Brindisi. Il trentenne arrivò al pronto soccorso dell'ospedale Perrino con ferite alle braccia e alle gambe. Dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico per una lesione tendinea all'avambraccio destro, era stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. La sua versione dei fatti non ha convinto gli investigatori che hanno scoperto che in realtà il ferimento era avvenuto al rione casale nei pressi di un locale. Acquisite le immagini delle telecamere a circuito chiuso, i poliziotti hanno visto chiaramente Cosimo Morleo a coltellare la vittima che era seduta in auto davanti al locale insieme a una ragazza. Il movente non è noto. Nell'ordinanza d'arresto il giudice evidenzia il clima di preoccupante omertà che ha coinvolto persino la vittima. Cosimo Morleo durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Brindisi ha ammesso il ferimento e accusato di lesioni personali aggravate.